500 le dosi di vaccino già comprate che saranno messe gratuitamente a disposizione dei dipendenti che ne faranno richiesta. Sei Toscana, gestore unico dei rifiuti della Toscana Meridionale, promuove infatti la campagna vaccinale anti-influenzale nella propria struttura organizzativa. Abbiamo comprato i vaccini anti-influenzali per tutti i nostri dipendenti, un modo per essere vicini ai nostri operatori che ogni giorno garantiscono un servizio fondamentale per le nostre comunità. Accanto al servizio ordinario abbiamo aggiunto anche quello della raccolta dei rifiuti dalle persone contagiate, quindi vogliamo far sì che la normale influenza eviti di creare problemi anche all'esecuzione del servizio. La società ha così aderito alla campagna vaccinale promossa da Utilitalia per i lavoratori dei servizi pubblici essenziali, chiedendo alla Regione Toscana la disponibilità dei vaccini per tutti i propri lavoratori.